Bentornati alla rubrica pillole di storia. Oggi vediamo il simbolo della rivoluzione francese e poi il simbolo del terrore, la ghigliottina, uno strumento di tortura che segnò un'epoca e che ancora oggi ricordiamo abbiamo ben impressa nella memoria. Sentiamo una testimonianza dell'epoca. Tutto si consuma in fretta, gli assistenti tagliano con una forbice la camicia blu e lo lasciano a torso nudo, le mani gli vengono legate dietro la schiena, lo fanno inginocchiare, sento un rumore sordo, mi giro e vedo sangue, sangue ovunque, in un secondo una vita è stata falciata. Ecco vedete queste sono le parole di un testimone dell'epoca e descrive in poche parole quello che succedeva all'epoca, questa lama di ferro che piombava dall'alto e in un secondo tagliava di netto la testa del condannato a morte. Il simbolo della rivoluzione francese che era nato, pensate proprio dagli ideali luministi, diventò poi invece protagonista di una gigantesca carneficina perché di fatto uccise veramente migliaia e migliaia di persone. soprannominata in vari modi, vedova, rasoio nazionale, louisette, louison, guillotine, guillottina, di fatto quindi da semplice strumento di esecuzione delle pene capitali divenne poi invece il simbolo del terrore perché uccideva tutti i nemici dello stato, della neo repubblica che era appena stata affondata ma che presto invece assunse una vera e propria veste dittatoriale. Robespierre dopo poco tempo instaurò il regime del terrore poi con il tribunale politico di fatto quindi divenne un mezzo per sbarazzarsi di tutti i nemici politici dell'epoca, naturalmente dopo la creazione del comitato di salute pubblica. Migliaia di teste passarono sotto questo strumento sia popolane sia nobili naturalmente partendo dai reali di Francia, Luigi XVI era consorte Maria Antonietta nel 1793 per poi tagliare la testa anche a molti nobili e al popolo naturalmente e tutti i nemici politici quindi dei giacobini perché poi divenne lo strumento per eccellenza dei giacobini e gli stessi giacobini poi ci finirono sotto compresi lo stesso Robespierre e Saint-Just per esempio. È buffo pensare che questo strumento di morte venne partorito dall'illuminismo, da quegli ideali di uguaglianza, di libertà, di fratellanza che resero grande la rivoluzione francese che segnarono definitivamente le umanità perché dopo la rivoluzione nulla fu più come prima, la rivoluzione cancellò definitivamente la società di antico regime quindi la cher regime venne polverizzato e lo stesso Napoleone quando portò questi ideali in tutta Europa di fatto cambiò le menti e di conseguenza le società di tutta l'Europa. Ma la ghigliottina fu realmente un'idea originale? In realtà no perché esisteva già il patibolo di Halifax che era stato introdotto alla fine del XIII secolo, quindi già nel 200 in pieno medioevo come vedete nell'immagine esisteva una sorta di antenata della ghigliottina, questo si chiama patibolo di Halifax, era una vera e propria ascia che veniva attaccata a questo pezzo di legno poi fatta sganciare, quindi fatta cadere sopra il condannato a morte però ecco non fu molto usata, uccise circa un centinaio di uomini ma non ebbe tutta questa grande fortuna, questo successo, tant'è vero che noi oggi neanche la ricordiamo perché tutti coloro che pensano alla ghigliottina hanno subito in mente la rivoluzione francese perché è proprio lì che venne partorita dalla mente pensate di un medico, altra ironia della sorte, colui che dovrebbe salvare le vite in realtà ideò questo strumento di morte, però attenzione perché non è un caso, perché chi meglio di un medico poteva conoscere il funzionamento di un corpo umano, quindi non è neanche così insolito o così sorprendente, quello che invece è interessante è che non fu poi questo medico e deputato dell'assemblea nazionale a realizzarla, lui fu solo l'idiatore ma addirittura non aveva neanche in mente quale potesse essere lo strumento vero e proprio, cioè lui abbozzò semplicemente un'idea, in realtà poi fu un chirurgo a realizzare il progetto, non quindi questo medico ma un chirurgo e infine poi fu pensate un costruttore di clavicembali tedesco a realizzare poi materialmente l'opera, quindi lo strumento di tortura. Viene dato il nome al medico che ha inventato, cioè che aveva pensato a uno strumento unico di tortura, ma in realtà poi non è lui né ad averlo realizzato né ad averlo poi invece progettato. Fu colui al quale venne l'idea, sto parlando quindi del medico e deputato francese, Joseph Ignace Guillotin, è proprio lui, vedete quindi dal suo cognome poi venne dato il nome alla Guillotin, allo strumento di tortura. E infatti pensate in un disegno di legge che lui presentò quindi all'assemblea nazionale, che cosa dice? Con la mia macchina vi farò saltare la testa in un batter d'occhio e non soffrirete affatto. La lama piomba come un fulmine, a malapena si percepisce un soffio d'aria fresca sulla nuca. Quindi vedete lui aveva soltanto in mente questa idea di uno strumento che tagliasse la testa di netto e nient'altro. Perché però lo dice? Non soffrirete affatto. Ecco attenzione, quindi è uno strumento partorito dall'illuminismo, ma per quale scopo? Per non far soffrire i condannati a morte. Quindi in realtà aveva un fine nobile, se così possiamo dire. Perché? Perché fino a quel momento come erano avvenute le esecuzioni? Beh, dipende dal centro sociale di appartenenza. I nobili venivano decapitati con una spada, quindi si tagliava la testa con una spada. Ma voi capite che spesso non era detto che al primo colpo la testa venisse recisa di netto, poteva soffrire terribilmente. I popolani, soprattutto i criminali, quelli più incalliti, che avevano commesso i più efferati crimini, venivano bruciati vivi sul rogo oppure venivano squartati o semplicemente venivano fracassate tutte le ossa. Quindi era anche uno spettacolo pubblico a cui accorrevano moltissime persone, si divertivano a vedere ammazzato quindi il condannato, il reo. Tuttavia ecco l'illuminismo non può più accettare la tortura. Lo stesso Luigi XVI, proprio l'ultimo re di Francia prima della rivoluzione, che poi finì anche alla ghigliottina, abolì la tortura nel 1780. Era proprio anche un modo alternativo per non far soffrire i condannati a morte. È interessante, dicevo, che quindi soltanto l'idea venne a Ghigliottin, colui poi che diede il nome vero e proprio allo strumento di tortura, insomma il suo nome fu associato a questo strumento di morte. In realtà colui che poi presentò il progetto vero e proprio, quindi colui che la disegnò, che la concepì, fu invece un chirurgo, è un chirurgo, il chirurgo francese Antoine Louise. E non è un caso poi che la ghigliottina fosse chiamata in quel periodo anche la Louisette o Louison proprio dal nome, quindi di colui che realizzò il progetto vero e proprio, questo chirurgo. Infatti il chirurgo stesso presentò poi il progetto di questo strumento nel 1792. Infatti descrive questo strumento come due pali verticali di un'altezza di 4 metri con una lama che poi fu inclinata di 45 gradi perché si scoprì poi che tagliava meglio il collo, quindi il reo, e la lama veniva poi issata con una corda e lasciata poi cadere sulla testa quindi del criminale. Per tenere fermo il corpo naturalmente si pensò quindi di farlo poggiare su questo lettino a pancia in giù e la testa veniva infilata su queste due semilunette di legno per poterlo tenere fermo in modo che poi non ci fossero problemi e che la testa fosse tagliata di netto perché lo scopo era far soffrire la persona il meno possibile. Infatti durava un semplice istante. Tra l'altro pensate che il popolo rimase anche deluso perché? Perché l'esecuzione durava un secondo, non c'era più gusto a partecipare perché in un secondo finiva tutto. Ecco da qui potete anche poi capire la mentalità, la cultura dell'epoca. C'era questo proprio piacere per il macabro perché nel momento in cui la testa veniva tagliata ovviamente il sangue schizzava da tutte le parti, c'erano fiumi e fiumi di sangue. Nei giorni in cui venivano uccise decine di persone si crearono poi dei problemi anche di igiene e le persone che abitavano lì vicino protestarono perché l'odore mefitico era nauseante e si iniziò anche a preoccuparsi per motivi di igiene. Ecco c'era questo grosso problema perché dicono le fonti che il sangue scorreva a fiotti e proprio bagnava tutto il terreno circostante tanto che il terreno non era più in grado di assorbire il liquido, il sangue, pensate. Il costruttore invece vero e proprio fu un tale Tobias Schmidt, un tedesco, pensate un costruttore di clavicembali, colui che era solito fabbricare degli strumenti musicali, poi fabbricò uno strumento di tortura, il rasoio nazionale come venne chiamato, soprannominato da tutti il rasoio perché tagliava la testa a tutti. Se volete vederci anche un po' di giustizia si pensò a questo strumento come un unico strumento uguale per tutti di morte. Quindi tutti dal più ricco al più nobile fino al più povero dovevano subire la stessa sorte, la stessa fine, quindi uno strumento che li rendesse uguali anche di fronte all'esecuzione. Di fatto abbiamo tre autori di questo rasoio, Guillotine, Antoine Louis, quindi un medico, un chirurgo e poi il costruttore tedesco vero e proprio Schmidt. La vedova, la Louisette o il rasoio nazionale chiamatelo come volete, entrò in attività per la prima volta il 25 aprile del 1792, quindi fu ideato e poi costruito nel corso di circa tre anni, quindi passò un po' di tempo e nel 92 poi entrò in funzione. Il primo che così saggiò, testò l'efficienza di questo strumento era un ladro e un assassino di nome Nicolas Jacques Pelletier. Pelletier fu proprio il primo e poi lo stesso Luigi XVI la testò sulla propria pelle. Si pensa che fosse stato proprio lui a suggerire poi di inclinare la lama di 45 gradi e se fu proprio lui a suggerirlo poi ne testò anche l'efficacia visto che ci finì sotto. Prima di entrare in funzione fu testata sulle pecore e sui cadaveri, quindi prima sugli animali poi sui cadaveri e infine quindi sui criminali che erano destinati alla pena capitale. Notate poi quindi che da strumento quindi di giustizia divenne invece uno strumento politico per uccidere tutti gli oppositori dei Giacobini durante il periodo del terrore e poi alla fine gli stessi autori del terrore ci finirono sotto. Robespierre e Saint-Just sono due esempi ecco su tutti, i due esempi più eclatanti. Sulla lama stessa fu scritto Armée de la République, è molto ironico se vogliamo perché l'arma della Repubblica poi segnò un vero e proprio regime dittatoriale, insomma un regime del terrore in cui le persone non erano affatto libere di potersi esprimere e di poter vivere in pace come invece possiamo fare noi oggi. Perché però fu chiamata in tutti questi modi? Rasoio nazionale mi sembra evidente visto che tagliava di netto la testa a tutti come un rasoio. Poi però fu anche definita vedova perché era lì da sola, questi due pali con questa lama sopra ovviamente il patibolo e quindi era vista così isolata sola come una vedova, ecco perché fu chiamata così. Poi Louisette o Louison in onore di colui che presentò il progetto, quindi del chirurgo Antoine Louis, ma alla fine quindi prevalse il nome di Ghigliottina, cioè dell'autore colui che per primo partorì e concepì questa idea di uno strumento d'orte ugualitario e pensate che lo stesso Ghigliottin rischiò di finirci sotto però si salvò perché ecco riuscì a scappare da Parigi, si ritirò ecco in privato, morì tra l'altro nel 1814 quindi all'epoca della restaurazione, quindi si salvò però pensate che oltre così insomma ad essere un medico morì anche molto dispiaciuto per il fatto che il suo nome fosse stato definitivamente associato a questo strumento di tortura, cioè alla Ghigliottina, non era molto contento pur avendo concepito quest'idea. Ecco quindi vedete uno strumento che segnò un'epoca che cambiò se volete anche il modo proprio di pensare, di concepire le esecuzioni pubbliche, sicuramente positivo perché grazie a questo strumento insomma si cercò inizialmente di ridurre il dolore, le sofferenze dei condannati a morte e poi fortunatamente si arrivò ecco nel corso del tempo invece all'abolizione della pena di morte. Ne vedete tratteremo ancora questi strumenti, le invenzioni, i modi di pensare perché sono queste le cose che rendono umane le persone che ci hanno preceduto, i nostri predecessori, siamo troppo abituati a parlare di storie in maniera mnemonica, a vedere soltanto gli eventi bellici o politici, ma la storia è fatta di persone, è fatta di uomini e donne che hanno vissuto tutti i giorni nel quotidiano, quindi impariamo che non soltanto nell'antica Roma ma anche nella Francia rivoluzionaria le persone erano attratte dal macabro, dalle esecuzioni, da questo sangue che scorreva fiotti, c'era quasi questa perversione, questo piacere però ecco perverso, diabolico, quasi nel godere della sofferenza e della morte altrui, quindi è interessante, quindi capiamo anche la mentalità dell'epoca. Torneremo ancora quindi su queste pillole di storia, trattazioni molto brevi, alcune un po' più lunghe, altre un po' più brevi a seconda dell'oggetto della nostra trattazione, interessante perché partendo quindi da uno strumento, da un'idea, poi possiamo espandere il discorso e capire veramente come vivessero e soprattutto cosa pensassero gli uomini che ci hanno preceduto, perché ricordatevi che noi siamo sempre il prodotto e il risultato dei nostri predecessori e quello che noi siamo oggi poi lasceremo in eredità ai nostri successori. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima.